dove mi trovo a francoforte nell'ospedale militare è fortunato ad essere ancora vivo e adesso che si è svegliato può finalmente girarsi da solo così grazie tu puoi puoi chiamarmi giunto che mi dici mi dica cosa vuole sapere come ti chiami e se ti piaccio è stato ferito gravemente ma il dottore dice che se ne caverà cosa mi è successo che cosa mi hanno fatto chi mi ha ridotto così